buongiorno a tutti allora sempre felpettina da bru che freddo che fa perché come vi ho detto recuperiamo tutte le gare che si sono svolte giusto due giorni fa due tre giorni fa nello scorso weekend di sci e quindi bando alle ciance ciancio alle bande perché ne sono successe di ogni questo slano speciale maschile di vengen che si è disputato domenica dunque 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 16 gennaio 2022 dopo la prima manche è christophersen in testa che è partito con il numero uno si siede sul trono come si suol dire e ci resta e nessuno riesce a fare una manche migliore il più vicino a lui è Manuel Feller che ha soli 11 centesimi tutti gli altri sono sopra il mezzo secondo di ritardo a partire dal Bonfossoleva che ha 58 centesimi d'altronde è sceso con il pollicione sinistro rotto quindi gliel'hanno tutto e quindi teneva il bastoncino probabilmente aveva il pollicione messo così e teneva il bastoncino solo con le altre quattro dita e non è facile questa è la destra lui c'aveva il sinistro lui il sinistro l'altro suo collega norvegese se adesso non mi ricordo il cognome so che altro c'è dentro il destro che infatti non è neanche riuscito a qualificarsi per quanto riguarda gli italiani c'è da dire che il buon Vinazzaro è settimo il buon Razzoli di cui non ho parlato perché ormai il mio riferimento è lui e poi ci sono i grandi vecchi Razzoli tra virgolette non si offendano ma hanno parecchi anni di gare sulle spalle Razzoli e Molg e poi c'è il buon Tommasino sala che i suoi punti li porta sempre a casa ma non lo vediamo spesso dei primi dieci o dei primi cinque sempre tra la decima alla ventesima posizione giù di lì però anche loro sono riusciti a qualificarsi quindi abbiamo Vinazzaro settimo Razzoli nono sala e ventunesimo e poi a pari merito abbiamo Bolg e Gross quindi cinque italiani nei primi 22 di cui due nei primi dieci non è malaccio la classifica comunque dopo la prima ma ci vede Christofferson al primo posto il buon Feller è secondo Fossole e Vaghe terzo Doelle è quarto Zenosen è quinto Schwarz è sesto Vinazzaro è settimo Iule è ottavo Razzoli è nono e Neff è decimo andiamo a vedere come è andata la seconda manche che sapete è quella che conta più di tutto quello che succede nella prima a volte nella seconda viene completamente sconvolto disintegrato eccetera eccetera proprio perché magari chi parte per primo nella seconda manche magari riesce a fare la super gara gli altri poi devono partire per ventisettesimi ventottesimi ventinovesi trentesimi hanno la pista che è disintegrata o comunque è rovinata rispetto a quello che è partito con la pista libidide bella bella pulita bella intonsa e quindi comunque vado alle ciance vediamo cosa succede il primo a scendere Marchand ormai abituato a partire per primo nelle secondi manche vediamo quale sarà il suo tempo il suo tempo è 143 e 16 i cronisti ha detto che così così qualche errorino qua e là eccetera eccetera tocca a Braten ventinovesimo dopo la prima manche vantaggio di 4 centesimi sullo sciatore belga una gara che definirei mica da ridere del buon Braten perché è vero che il belga non è che ha fatto chissà che garona però dagli un secondo e 68 centesimi è tanta tanta roba certo se guardi il 4 centesimi di vantaggio è uno in un secondo e 64 però questa è una gara da primi 15 e tranquillamente poi bisognerà vedere se Marchand ha fatto una garetta un po' così così o è stato Braten che veramente ha fatto la gara da doppia libidi dei coi fiocchi e quindi però lo scopriremo solo vedendo la discesa di tutti gli altri sciatori che devono arrivare e hanno un certo vantaggio chi minimo chi è sempre di più di più di più di più di più di quello che ha dato a Marchand solo che il buon Braten ha dato un secondo e 81 centesimi di vantaggio sull'orvegese ahimè alla fine solo terzo con ben un secondo e 41 di ritardo quindi 40 gli aveva preso un secondo e 81 da Braten rendetevi conto quindi non è Marchand che è scarso ma è proprio Braten che ha fatto una gran gara perché anche a ha dato un secondo e 81 centesimi quindi ancora di più di quello che ha dato a Marchand solo che il buon Braten avendo 40 centesimi di vantaggio riesce a stare davanti al belga tocca a Gross anche lui 22esimo dopo la prima March e quindi stesso vantaggio di 40 centesimi purtroppo Gross fa pure peggio del suo compagno di squadra si becca la bellezza di due secondi e 22 da Braten e quindi in totale è un 82 di ritardo ed è ottavo quindi ottavo ne mancano 21 sarà penultimo ncs non ci siamo tocca al nostro Tommaso Sala 21esimo e vantaggio di 45 centesimi sullo sciatore norvegese purtroppo anche lui è solo ottavo riesce a battere giusto giusto di due centesimi o di un centesimo forse di un centesimo no di due centesimi il buon Gross però è solo ottavo sono ottavo quindi male che vada Sala 28esimo vedremo vedremo cosa succederà però anche Sala è dietro ncs e non ci siamo no non ci siamo proprio 1,80 e 1,82 di ritardo i nostri due italiani ottavi e noni vabbè ne mancano 20 tocca a Hirsch Buell vantaggio di 60 centesimi e il diciannovesimo dopo la prima manche purtroppo dopo poche porte si blocca letteralmente e viene come sbalzato dagli sci perché praticamente ha toccato la porta ma l'aveva superata tranquillamente e si vedi proprio lui che salta in avanti e gli sci restano a terra e lui viene letteralmente buttato giù e va giù a pelle di leone e quindi deve salutare letteralmente anche lui la gara e zitto zitto cacchio cacchio Braten continua a recuperare siamo arrivati ai primi 15 e Braten è sempre primo e adesso tocca a Strasser quindicesimo dopo la prima manche vantaggio sul norvegese di 74 centesimi purtroppo dopo il secondo intermedio in luce verde di 54 centesimi in forca ed è fuori quindi fuori anche Strasser e Braten è nei 15 ha già recuperato 14 posizioni tocca a Erni tredicesimo dopo la prima manche vantaggio di 77 centesimi purtroppo anche lui dopo il primo intermedio in luce verde di 47 centesimi vola letteralmente ed è saluta la gara perché praticamente è arrivato sul dos proprio volato giù anche lui completamente e Braten zitto zitto cacchio cacchio continua nella sua scalata un po' escono un po' gli finiscono dietro e lui tocca a Strasser anche lui tredicesimo era pari con a Erni e vantaggio appunto di 77 centesimi e anche lui come a Erni però dopo il secondo intermedio salta una porta e fuori anche lui e quindi il buon Braten continua a scalare la classifica adesso male che vada sarà tredicesimo è nei 10 nessuno riesce a stare davanti al buon Braten ci prova il nostro Razzoli nono dopo la prima manche vantaggio di un secondo e 0-3 ahimè è solo secondo si fa per dire visto quello che è successo a tutti gli altri con 29 centesimi di ritardo Braten sarà male che vada sarà nono ha recuperato 20 posizioni perché adesso tocca a quello che è arrivato ottavo e anche lui finisce dietro al buon Braten è la vostra di Wienazzer nostro atleta settimo dopo la prima manche ultimo degli italiani un vantaggio di un secondo e 17 sfortunatissimo Wienazzer perché praticamente tocca al palo lo passa non è che lo ha inforcato lo passa tocca al palo solo che il palo gli dà un colpettino allo sci lo sci si incastra con l'altro con l'altro sci quindi incrocia come si suol dire per un attimo le punte quando si sposta lo sci destro gli salta e quindi salta anche lui e finisce a pelle di leone e saluta la gara sfortunatissimo perché comunque aveva ancora un po' di margine di vantaggio poteva tranquillamente magari riuscire a stare davanti a Braten o comunque lì in zona vicinissimo ai primi e fare comunque una buona cara dei 10 o magari dei 5 magari non sarebbe stato primo, secondo, terzo sarebbe stato quarto andava bene lo stesso ahimè saluta anche lui la gara ragazzoli nessuno riesce a stare davanti al buono Braten ci provano i primi tre tocca a Fosoleva per una sfida tutta in famiglia tra norvegesi terzo dopo la prima mance vantaggio di un secondo e 46 sul suo connazionale anche Fosoleva purtroppo deve accettare non so ormai non ci credo più neanch'io è dietro anche lui è quinto e Braten da ventinovesimo è matematicamente sul foglio e ne mancano solo due perché è anche Fosoleva è dietro boh va bene tocca a Feller vantaggio di un secondo e 93 e secondo dopo la prima mance incredibile nemmeno lui con quasi due secondi di vantaggio riesce a stare davanti al buono Braten e non va nemmeno a podio è quinto si pone davanti a a Fosoleva ma è quinto con 39 centesimi di ritardo e adesso tra la vittoria e Braten c'è solo Christoffersen quindi sfida ancora tutta norvegese Christoffersen contro Braten Fosoleva ha dovuto subire la legge del recuperone di Braten vediamo se Christoffersen ce la fa o no clamoroso Christoffersen è fuori mancava un po' che porta è inforcato a tre porte dalla fine praticamente aveva un secondo e 24 di vantaggio all'ultimo intermedio nel piano finale nella foga di voler recuperare eccetera che non aveva nulla da recuperare ma è andato giù a cannone va a inforcare nettamente una porta e saltarne poi su quella successiva perché ormai era cioè ha preso in pieno la porta e quindi e quindi signori clamorosamente Braten da ventidovesimo va a vincere la gara credo che forse era riuscito solo a Christoffersen anni prima di partire ventinovesimo recuperare ventotto posizioni e andare a vincere mi sembra che lo dicevano i cronisti quindi andiamo a vedere la classifica finale di questo slalom clamoroso che tra l'altro vede il nostro Giuliano Razzoli al terzo posto che io ridendo e scherzando ieri parlavo di Vinazzer e invece il buon Giuliano mi torna sul podio dopo tanto tanto tempo emozionatissimo tra l'altro era già andato via perché è convinto che era terzo dovevano scendere ancora tutti gli altri pensava arriverò a quarto quinto sesto settimo eccetera eccetera e invece zitto zitto cacchio cacchio mi torna sul podio e quindi classifica finale primo Braten 28 posizioni recuperate secondo Iule che da ottavo se non ricordo male recupera sei posizioni ed è sul podio terzo Razzoli che ne recupera sei tranquillamente Stren è quarto recuperando tredici posizioni Manuel Feller è quinto perde un paio di posizioni ma può essere soddisfatto lo stesso ne perde tre però un buon quinto posto non si butta mai via Fossole vaga sesto Beillard è settimo Doelle ottavo Pinturò è nono e Sparks è decimo per quanto riguarda gli altri italiani Bolg è tredicesimo e recupera la bellezza di nove posizioni l'ha detto Don Do Böld zitto zitto cacchio cacchio il suo lo fa sempre Sala è ventesimo Gross è ventunesimo ahimè Binaz è burlaggio è fuori detto questo io vi saluto vi ringrazio come vi dico c'è sempre slalom speciale slalom gigante la prima manche è una cosa ma va confermata nella seconda e spesso ci sono questi stravolgimenti ma una roba del genere era da tanto che non si vedeva uno che è ventinovesimo dopo la prima manche che va a vincere è clamoroso detto questo ci vediamo la prossima che mi sono dilungato anche troppo ma d'altronde era un garone da paura e rimani rimani punto non c'è bisogno di aggiungere altro ciao ciao